bacchetta magica uno, due, tre, quattro, cinque chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro non ti vedo Lisa dove sei andata? da questa parte no, qua neppure eccoci! vieni Lisa, ti ho trovato! devi fermarti! non vale nascondersi di nuovo Lisa, dove sei? Lisa? che meraviglia! ma cos'è questo? mondo fantastico! non si apre! ah, Lisa! guarda cosa c'è! una bacchetta! è così, una bacchetta magica migliore della mia! eh? Lisa? cosa ti è successo? wow! è proprio magica! andiamo a provarla vuoi che dividiamo? va bene, metta tu, metta io ma ti sei mangiata la mia fetta? no, non è vero sei stata tu! dici una bugia rivolgo la mia torta non sono una bugiarda! ho vinto! impossibile! quel pezzo non era lì prima! tu imbrogli! tu imbrogliona a me! a me! non gioco più! bene! prendila! dai, un'altra volta! veramente carino, Spot! guarda cosa hai combinato! guarda! lo sapevo! adesso è tutto molto chiaro! sei stata tu! per colpa tua non l'ho assaggiato! mi dispiace! non pensavo vi arrabbiaste! sapete che è divertente? per te, forse! ma perché? se perdi, tu sei contenta? per caso? e se ti sparchi di torta? io me ne vado! per favore! per favore! tornate indietro! era solo un gioco! ho una bacchetta magica! guardate! ah! ci sono! lascia fare a me! eh? ah! oh! ah! ragazze sono qua voglio chiedervi scusa volevo provare la mia bacchetta magica e a noi dispiace molto esserci arrabbiate perché tu sei la nostra amica una torta gigante sì bacchi enormi che belli grazie Lala questo sì che è forte e poi vedrete quello che posso fare con la mia bacchetta ma era qui poco fa e Lisa? qualcuno ha visto Lisa? Lisa! la mia bacchetta è la mia bacchetta scoprirai la costellazione segreta parte 1 ciao! cosa fai Wendy? sto cercando una costellazione a forma di stella blu se vuoi vengo là posso aiutarti? certo! sali dai! a destra si vede la costellazione dell'arcobaleno bello! quanti colori? a sinistra c'è la nebulosa gravitazionale gelato gravità cosa? beh non importa ehi! ma vedo la luna! eh? però non vedo la costellazione della stella blu lo so neanche io questa costellazione è l'unica che mi rimane da disegnare è così lontana che non si vede buonanotte missi vadoci riprovo domani cosa succede? oh aspetta! fammeli una da questa parte te l'ho già fatta così ciao! eh? sapete per caso da dove viene questo rumore? sì! è missi ha un'altra delle sue meravigliose idee missi? eh? missi? stai facendo troppo chiasso e io così non riesco a dormire buongiorno wendy prendimi il martello per favore bene! adesso passamelo forza oh! oh! fatto! ho passato tutta la notte a lavorare alla tua nave spaziale adesso riuscirei ad arrivare alla tua ultima costellazione e potremo organizzare dei viaggi nello spazio per tutti beh, forse c'è ancora bisogno di qualche ritocco Missy, non sembra che funzioni tutto alla perfezione ma sei comunque una grande amica Wow, quella non ha certamente bisogno di nessun ritocco, è perfetta andiamo a vedere Sì, sì, c'è anche il libretto delle istruzioni Fammi una foto qui Adesso qui La nave spaziale sta per decollare Wendy, no! Che cosa state facendo qui? Non lo so, ho toccato qualcosa senza volerlo Calma ragazze, non piangete E adesso tutti fuori Sono un genio Missy, cos'è quello? Wendy, Lena, Lady e Lulu sono andate nello spazio Accidenti! Ma come faranno a tornare? Tornare? Oh, beh! Tornare! Hai ragione! Come faranno a tornare indietro? Che paura è? Meno male che non è decollata Stavamo per finire nello spazio Fuori è quasi buio Il giorno è davvero volato Lena, no! Non è notte, lo sai! Siamo nello spazio!